Laudentur Jesus et Maria. Carissimi amici, siamo di nuovo insieme per proseguire il nostro viaggio alla conoscenza di Maria di Magdala e del suo percorso, della sua crescita, della sua personalità. Questa sera, se Dio vuole, vedremo delle scenette abbastanza edificanti, vedremo una parte che a me personalmente piace molto del carattere di questa donna, perché quando poi ci si relaziona con certi personaggi va bene la carità, però ci vuole anche un po' di audacia e di saper dare anche le giuste risposte, perché non è che si può sempre, sempre, specie in certe circostanze, tacere e abbozzare, come capiremo molto bene, dall'episodio di questa sera. Si intitola così, la sua audacia contro i nemici di Gesù che vogliono vedere il fratello morente. Questo è un episodio veramente molto bello, molto toccante per certi aspetti, molto forte, anche molto edificante a mio avviso, e che mostra un bello spaccato di quello che girava intorno a Gesù. Molti dei protagonisti delle episodi che vedremo questa sera, per chi conosce l'opera di Maria Valtorta, sono nomi molto noti, sono personaggi che poi sarebbero avuto un ruolo di primo piano durante la passione di Gesù, responsabile della sua cattura, con danno a morte, e presenti al Calvario nella funzione di sbeffeggiatori, sberleffatori e derisori, provocatori. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ecco, questa sera saremo a contatto con questi personaggi e vedremo Maria di Magdala, che con un termine certamente a quei tempi non presumo in auge, ma noto, diciamo così, al nostro linguaggio. Asfaltare. Quindi, gli ha dato una bella asfaltata. Allora, un folto e pomposo gruppo di giudei, su cavalcature di lusso, entra in Betania. Sono scribi e farisei, nonché qualche sadduceo ed erodiano, già visto altra volta, se non erro al banchetto in casa di Cusa, per tentare Gesù a proclamarsi re. Sono seguiti da servi a piedi. La cavalcata traversa lentamente la cittadina e gli zoccoli suonanti sul terreno duro, il tintinio delle bardature, le voci degli uomini, attirano fuori dalle porte gli abitanti, che guardano e con palese sbigottimento si curvano in saluti profondi, per poi rialzarsi e riunirsi in crocchi bisbiglianti. Avete visto? Tutti i sinedristi di Gerusalemme. No, Giuseppe l'anziano e Nicodemo e altri non c'erano. E i farisei più noti e gli scribi. E quello sul cavallo chi era? E certo vanno da Lanzaro. Deve stare per morire. Non so capire perché il rabbino non sia qui. E come vuoi se lo cercano a morte quelli di Gerusalemme. Hai ragione, anzi, certo quei serpenti che sono passati vengono per vedere se il rabbia è qui. Sia l'odio a Dio che non c'è. Tu che stai vicino ai campi di Lanzaro, sai se è morto? No, non è morto, è lì fra morte e vita. Ne ho chiesto a Sara che coglieva foglie d'aromi per le lavande. E allora perché quelli là sono venuti? Ma hanno girato intorno alla casa, sul dietro, sui lati, intorno all'altra casa dell'Ebroso e poi sono andati via verso Betlemme. Ma se l'ho detto io, sono venuti a vedere se c'era il rabbia per fargli del male. Sai cosa era per loro potergli fare del male? E proprio in casa di Lanzaro, di tu Nathan. Quell'erodiano non era quello che un tempo era l'amante di Maria di Teofilo. Era. Voleva forse vendicarsi in quel modo su Maria. Arriva un ragazzetto di corsa. Grida. Quanta gente in casa di Lanzaro. Venivo dal ruscello con Levi, Marco, Isaia e abbiamo visto. I servi hanno aperto il cancello e preso le cavalcature. Massimino è corso incontro ai giudei e altri sono corsi con grandi inchini. E sono uscite dalla casa Marta e Maria con le loro ancelle a salutare. Si voleva vedere di più ma hanno chiuso il cancello e sono andati via. Tutti nella casa. Il fanciullo è tutto emozionato per le notizie che porta e per ciò che ha visto. Gli adulti commentano fra loro. Ovviamente quella carrellata di frasi che ho letto sono tutte quante virgolettate. Era un dialogo tra diverse persone che stavano commentando quello che stava accadendo. Sono tutti virgolettati. Rendere la drammatizzazione, spero di riuscirci con il tono della voce. Sennò sarebbe molto pesante dire uno dice e l'altro risponde. Spero che si capisca. Però se dovessero esserci problemi magari fatemi notare commenti al video oppure in diretta dopo commenti sotto la catechesi. Per quanto affranta di dolore e di fatica, Marta è sempre la signora che sa accogliere e ospitare. Dando onore con quella signorilità perfetta della vera signora. Così ora dopo aver condotto in una delle sale la comitiva impartisce ordini perché siano portati quei rinfreschi che sono d'uso e gli ospiti abbiano quanto può essere di conforto. Ecco vedete questo è un tratto di Marta che a me personalmente se posso permettermi una digressione un po' personale a me piace molto perché la signorilità è una cosa sempre molto molto bella. comportarsi da gran signori e da gran signore cosa oggi rarissima è cosa molto oserei dire anche molto santa perché guardate che se uno legge gli scritti di Maria Valtorta anche Gesù si comportava regolarmente da gran signore in tutte le sue manifestazioni. una cosa che a me è sempre molto colpito era che Maria Valtorta nota tante volte il suo modo di mangiare ai banchetti. Era un po' un precursore del Galateo. Vabbè è evidente che il buon signore della casa era un sacerdote come molti sapranno. Tutte queste cose, sapete io sono un pochino un restauratore. Così mi ha chiamato qualcuno. Altri brutti segni dei tempi per quanto mi riguarda. Pessimi segni dei tempi. Perché un po' di un po' di signorilità farebbe molto bene farebbe. A tutti i livelli. Io ho raccontato spesso che avevo un anziano padre spirituale gesuita nei primi anni che stavo in seminario adesso ha da tempo reso l'anima dia dopo essere stato nominato cardinale di Santa Romana Chiesa per la verità. Da Giovanni Paolo II credo addirittura. Mi sa proprio di sì. Uno degli ultimi concistori che fece. era un gesuita, un vecchio gesuita, vecchio stampo, un canonista molto in gamba si chiamava Padre Urbano Navarrete diventato cardinale per merito avete visto quelle nomine di cardinali che fanno molto molto anziani che non sono neanche lettori ma che gli danno insomma un premio come dire un riconoscimento di una vita integerrima. sapete cosa mi diceva questo? Che la buona educazione, la buona creanza copre oltre il 50% se non ricordo male della virtù teologale della carità. Oggi la cafonaggine e la maleducazione non soltanto nei ragazzini ma anche negli adulti è all'ordine del giorno. proprio tocca la sfrontatezza in più di qualche circostanza. Una ma non l'unica delle spie per esempio è l'orribile moda che io veramente ancora mi devo chiedere come specialmente le le figlie di Dio perché sono tutte figlie di Dio come fanno a conciarsi in certi modi. Io non lo so come fa una tizia ad andare in giro conciata in certi modi sapendo che c'ha addosso gli occhi di mezzo mondo ma non è un po' un imbarazzo io dico purtroppo ci sono molte cose che dentro la mia limitata testa non ci proprio possono non c'entrano quindi non le capisco non ci arrivo vabbè andiamo avanti dopo questa parentesi sulla signorilità di Marta Santa Marta anche Maria di Magdala era molto signorile però vedremo che qui tra poco come dire coniuga la signorilità in maniera un pochino differente proseguo i servi circolano mescendo bevande calde o vini pregiati e offrendo frutta bellissime datteri biondi come topazzi uva secca una specie del nostro zibibbo di una perfezione di grappoli fantastica miele filante tutto in anfore calici piatti vassoi preziosi e Marta sorveglia attenta perché nessuno avessi trascurato ma anzi a seconda dell'età e forse anche dell'individuo i cui umori le sono ben noti regola l'offerta dei servi così ella ferma un servo che si dirige a Delchia a questo è uno con un'anfora colma di vino e un calice gli dice Tobia non vino ma acqua di miele e succo di datteri e a un altro certo Giovanni preferisce il vino offrigli il bianco dell'uva passita oh e personalmente al vecchio scriva Canania ah questo è un altro di quelli proprio offre latte caldo che abbondantemente dolcifica con il biondomiere dicendo gioverà la tua tosse ti sei sacrificato per venire sofferente come sei e nella rigida giornata sono commossa di vedervi così premurosi dice Marta dovere nostro Marta Euceria era della nostra stirpe una vera giudea che ha onorato noi tutti Euceria era la madre di Lanzaro di Maria di Magdala e di Marta per chi non lo sapesse Marta risponde a Canania l'onore alla venerata memoria della madre mia mi tocca il cuore ripeterò a Lanzaro queste parole ma noi vogliamo salutarlo un così buon amico dice falso come sempre il Chia che si è avvicinato salutarlo non è possibile è sfinito troppo ma non lo disturberemo non è vero voi tutti ci basta solo un addio dalla soglia della sua camera dice Felice non posso non posso proprio Nicomede si oppone ad ogni fatica ed emozione ma uno sguardo all'amico morente non lo può uccidere Marta dice Callascebona altro personaggio che intanto li ritroveremo tutti quanti questi qui troppo ci dovrebbe non averlo salutato Marta è agitata titubante guarda verso la porta forse per vedere se Maria viene a dare aiuto ma Maria è assente i giudei osservano questa sua agitazione Sadoc altro tutti ci stanno qua proprio lo scriva osserva a Marta si direbbe che la nostra venuta ti agita donna no no affatto ma compatite al mio dolore sono mesi che vivo presso chi muore e non so più non so più muovermi come un tempo nelle feste oh ma non è una festa non volevamo neppure che tu ci onorassi così ma forse forse ci vuoi forse ci vuoi cercare qualche cosa e per questo non ci mostri Lazzaro e ci interdici la sua camera eh eh si sa ma non temere la camera di un malato è asilo sacro a chiunque credilo dice Elchia non vi è nulla da cenare in camera di nostro fratello nulla vi è nascosto essa accoglie soltanto un morente al quale sarebbe pietà risparmiare ogni ricordo penoso e tu Elchia e tutti voi siete ricordi penosi per Lazzaro chi è che sarà intervenuto a parlare dice Maria con la sua splendida voce d'organo apparendo sulla soglia e tenendo scostata la tenda porpurea con la mano Maria geme Marta supplichevole per frenarla nulla sorella lasciami dire si rivolge agli altri e per levarvi ogni dubbio uno di voi sarà un solo ricordo del passato che torna a dare dolore venga con me se la vista di un morente non lo disgusta e il fetore delle carni che muoiono non lo nausea e tu non sei un ricordo che dà dolore dice ironico l'erodiano quello di cui la folla all'inizio ha asserito essere stato uno degli amanti di Maria di Magdala che ho già visto non so dove lasciando il suo angolo e mettendosi di fronte a Maria Marta ha un gemito Maria ha uno sguardo d'aquila inquieta i suoi occhi balenano si raddrizza altera dimenticando la stanchezza e il dolore che recurbavano la persona e con una espressione di regina offesa bellissimo dice sì io pure sono un ricordo ma non di dolore come tu dici sono il ricordo della misericordia di Dio e me vedendo Lazzaro muore con pace perché sa di rendere lo spirito nelle mani dell'infinita misericordia non erano queste le parole di un tempo la tua virtù a chi non ti conosce potresti porla in vista ma non a te non è vero invece proprio a te la pongo sotto gli occhi per dirti che si diventa come coloro che si praticano allora sventuratamente io avvicinavo te ed ero come te ora avvicino il santo e divengo onesta devo fare un pit stop stavo per leggere ma ho avvertito chiaramente questo è un passaggio da 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 sottolineare vedete che il nostro signore ha detto amati i vostri nemici che ti danno schiaffo per dire altre guance eccetera eccetera no beninteso consigli ed esortazioni oltremodo sacro sa perché vengono scusate da dal nostro dio e unico maestro dinanzi al quale non si discute i suoi anche consigli è bene che noi li consideriamo come ordini e ad essi ci alleviamo l'odio delle creature deve essere qualche cosa che in noi non esiste chiunque esse siano qualunque cosa ci abbiano fatto per quanto malvagio possano essere avremo tempo per odiare i malvagi sperando di arrivare al posto giusto nell'eternità perché in paradiso i beati odiano i malvagi e nessuno si scandalizzi per questo e si va da leggere San Tommaso se si scandalizza tra gli altri San Tommaso da qui ovviamente qui no qui dobbiamo stare tranquilli però però quando come dire è in causa la verità oppure la buona fama la reputazione lì bisogna intervenire non si deve tacere questo tizio sta ironizzando su Maria di Magdala sbattendole in faccia il suo passato ironizzando sul fatto che è stato quello che è stato e qui sta mancando a due cose non alla verità per quello che riguarda il passato ma alla verità per quello che riguarda il presente tu non sei un ricordo che dà dolore no non lo è dà dolore a quei tempi ne ha dato tanto a Lazzaro non nel presente e c'è un insinuata diffamazione nei suoi confronti io non sono più quella di un tempo io un tempo venivo con te ed ero come te ma ora vicino il santo e divengo onesta attenzione si diventa come coloro che si praticano questo mettiamocelo bene in testa mettiamocelo bene in testa piccoli e grandi ai giovani vanno evitate le cattive compagnie si diventa come coloro che si praticano è come dire la variante del popolar proverbio chi va con lo zoppo impara a zoppicare ok i ragazzi devono stare lontani dalle cattive compagnie ma anche gli adulti e fare questo è umiltà perché la superbia dice si questo sarebbe una cattiva compagnia ma tanto che io questa cosa la gestisco ok quale motivo c'è di stare con una persona che sai praticandola che ti potrebbe portare verso posizioni non buone idee non buone comportamenti non buoni perché noi gli amici ce li scegliamo certo se uno c'è un collega di lavoro che lo deve frequentare per forza ma al di fuori delle frequentazioni necessarie noi decidiamo chi praticare e chi pratichiamo punto interrogativo chi pratichiamo Maria di Magdala ha le idee molto chiare al riguardo vedete anche le insinuazioni che vengono fatte diceva bene tagliamo la testa al toro uno uno venga con me quindi vedete proprio il carattere e l'assoluta opportunità dell'intervento chiaro di Maria di Magdala adesso questo riprende dicendo questa cosa qui cosa distrutta non si ricostruisce Maria falso al che lei risponde infatti il passato tu voi tutti non potete più ricostruirlo non potete ricostruire ciò che avete distrutto non tu che mi fai ribrezzo non voi che avete offeso al tempo del dolore il mio fratello ed ora per bieco scopo volete mostrare che siete i suoi amici oh sei audace donna il rabbì ti avrà scacciato molti molti demoni ma mite non ti ha fatta dice uno sui 40 anni e sentite la risposta no Jonathan Benanna non mi ha fatta debole ma più forte dell'audacia di chi è onesto di chi ha voluto tornare no scusate ho letto male non mi ha fatto debole punto ma più forte virgola spiega dell'audacia di chi è onesto di chi ha voluto tornare onesto e ha distrutto ogni legame col passato per farsi una nuova vita avanti chi viene da Lazzaro è imperiosa come una regina li domina tutti con la sua franchezza spietata anche contro se stessa Marta invece è angosciata con le lacrime agli occhi che fissano sopplichevoli Maria perché stia zitta preoccupata ora anche qui vedete l'amitezza non è debolezza ci sono dei passaggi molto molto belli degli scritti di un grande padre della chiesa un grande papa tra l'altro un grandissimo papa a me personalmente una vabbè quello è veramente uno dei più grandi della storia della chiesa quindi essere vissuti al suo tempo averlo avuto come papa una grazia molto differente si tratta di San Gregorio Magno 590 è stato papa 604 14 anni purtroppo sti papi santi come un sampio decimo durano tutti poco ecco vabbè è stato un grandissimo se uno si legge la regola pastorale di San Gregorio Magno o i Morali e Iov opera etica lui è bravissimo a mostrare proprio il confine labile che c'è tra una virtù e il vizio camuffato da virtù mite non ti ha fatta certo che sono mite ma mite non significa debole mite non significa che come dire mi faccio mettere i piedi in testa da chi vorrebbe continuare a massacrarmi quindi a umiliarmi invocando un passato che non c'è più e che è morto io devo dare testimonianza di questo io non ti lascio fare una cosa di questo genere non te lo permetto e questo non è mancanza alla mitezza perché mitezza e coraggio non sono virtù opposte sono entrambe virtù mentre la debolezza per esempio qui in questo caso sembra che un po' di debolezza attanagli Marta che vorrebbe che Maria stesse zitta per paura che questi facciano qualche ridurzione o qualche azione in consulta bene bene chi viene verrò io dice con uno sospiro di vittima il chia falso come una serpe escono insieme anche qui Maria sta facendo sta sta peccando sta giudicando il chia allora anche qui non giudicare non giudicare non giudicare se questo è palesemente falso il giudizio l'ha già detto in altre circostanze è peccato quando è o quando è temerario cioè sulla base di un semplice sul sospetto uno conclude ma qui non è il sospetto questo non solo in questa circostanza ma in tante altre l'ha dato proprio prova lampante dell'essere falso come una serpe oppure quando tocca le intenzioni questo è il giudizio che Dio proibisce ma se io vedo una persona cioè che è evidentemente un poco di buono come faccio fuggire una una cattiva compagnia devo fare per forza un giudizio mettiamo un ragazzino se c'è un amichetto che bestemmia dice sacco di parolacce fa il monello fa il burlo ha esperienze sessuali precoci io me la devo andare e non è che posso dire ah vabbè faccio finta di niente perché se no sono troppo cattivo e giudico col parolo ragazzino noi la verità dobbiamo dirla e fate caso alla mentalità contemporanea che capite dice due che convivono dice il mio compagno e la mia compagna compagno e compagna ma questi veramente mi sembra che fossero termini che ai tempi della mia gioventù quando ancora le ideologie erano ancora belle vive venivano risolvati ai membri di una certa area politica compagno e compagna due persone che vivono insieme fuori del matrimonio non si chiamano compagno e compagna si chiamano pubblici concubini si chiamano così non compagno e compagna però pubblici concubini questo è un termine offensivo offensivo no è la verità lo dice Gesù nel Vangelo chiunque sposa la moglie e ne ripudia un altro eccetto il caso di concubinato commetta tutte e lo dice lui eccetto il caso di concubinato se quello è un concubinato come si chiamano i protagonisti di un concubinato si chiamano concubini o no se ci sono degli atti impuri contro natura chi li commette come si chiama attenzione questo vale anche all'interno delle relazioni etero detto fra me e voi perché le stesse cose che fanno gli uomo se li fai dentro un rapporto etero sono sempre atti impuri contro natura sempre ok forse di un grado di gravità inferiore ma perché comunque sia almeno la relazione è quella secondo l'ordine della creazione voluto da Dio ma l'atto il rapporto è sempre un rapporto che significa contro natura significa destituito del retto fine quindi è una è pervertito nel senso che è perversione perché è una mancanza di ordinazione di un atto al debito fine si chiama così si chiama ma se tu oggi usi questo termine apri di cielo apri di no e questo perché perché per corrompere una cultura devi anestetizzare la verità no anche certe pastorali della cosiddetta accoglienza corrono questo pericolo corrono questo pericolo perché l'accoglienza non deve essere fraintesa si cerca un contatto con la persona per aiutarla nella conversione non è che si dà il placet a un comportamento cattivo della persona se non si sente giudicata sapete quante volte è successo a me beh noi conviviamo ma tu comunque si tu ci giudichi perché noi conviviamo che cosa mi significa questo che cosa mi rappresenta questo discorso che significa tu mi giudichi perché noi conviviamo tu non mi devi giudicare perché io convivo ma che significa questo in italiano questo che significa tu convivi cioè è un giudizio perché soggetto verbo essere predicato verbale tu sei convivente la convivenza è proibita dalla legge di Dio ti giudico io prendita con prendita con condomini Dio io a tu non mi devi giudicare quindi che cosa significa ti devo dire che quello che tu fai non è non è niente non ti preoccupare che non è niente ma questo non te lo dirò mai ma cosa tu tortura vabbè la serpe quindi Maria Valtorta non deve andare a confessare perché ha detto che il Chia è falso come una serpe questo era il senso del discorso quindi dobbiamo parlare di Maria di Magdal abbiamo fatto una piccola parentesi su Maria Valtorta perché vabbè c'è scappata andiamo avanti gli altri si vogliono a Marta tua sorella sempre quel carattere ma non dovrebbe ha tanto da farsi perdonare dice Uriel sentite questo chi è il rabbì visto agiscala quello che è l'ha colpito con sassi Gesù anche questo è un discorso apparentemente no? dice ma questa con tutto quello che ha fatto che fa pure la seppure l'ingazzullita no? alza pure la cresta Marta sotto la sferza di queste parole però ritrova la sua forza e dice la perdonata è Dio ogni altro perdonato perdono non ha valore dopo quello e la sua vita attuale è d'esempio al mondo ha ritrovato un po' di coraggio ma l'odacia di Marta presto cade e si muda in pianto geme fra le lacrime siete crudeli verso lei e verso me non avete pietà né del dolore passato né del dolore attuale perché siete venuti per offendere e dare dolore? no donna no unicamente per salutare il grande giudeo che muore non per altro non per altro non devi prendere a male le rette intenzioni nostre abbiamo saputo da Giuseppe e Nicodemo dell'aggravamento e siamo venuti come essi i due grandi amici del rabbi e di Lazzaro perché volete trattarci in maniera diversa? noi chiamiamo il rabbi e Lazzaro come essi non siete giuste puoi forse dire che essi con Giovanni Eleazar Filippo Giosuè Gioacchino non sono venuti a sentire di Lazzaro e che anche Manna N non è venuto? non dico nulla ma stupisco che voi sappiate tutto così bene non pensavo che anche l'interno delle case fosse sorvegliato da voi a quei tempi non c'erano le telecamere le videosormiglianze Alexa non c'era questa roba a quei tempi eppure questi non sapevo che vi fosse un precetto nuovo oltre i 613 quello di indagare di spiare nell'intimo delle famiglie oh scusate io vi offendo il dolore mi dissenna e voi lo acuite oh ti comprendiamo donna e perché vi pensiamo dissennate siamo venuti a darvi un consiglio buono ma andate a chiamare il maestro anche ieri sette lebrosi vennero a lodare il signore perché il rabbi li ha guariti chiamatelo anche per Lazzaro vedete l'insinuazione cosa erano andate a controllare che questi non si tenessero in caso a lebroso così sarebbe stata alla fine non è lebroso mio fratello grida Marta convulta per questo lo avete voluto vedere per questo siete venuti no non è lebroso guardatele le mie mani io lo curo da anni e non è lebra su me ho la pelle arrossata dagli aromi ma non ho lebra non ho pace pace donna e chi ti dice che Lazzaro è lebroso e chi sospetta in voi un peccato così orrendo come quello di occultare un lebroso e credi tu che nonostante la vostra potenza non vi avremmo colpiti se aveste peccato anche sul corpo del padre e della madre e della sposa e dei figli noi siamo capaci di passare pur di far ubbidire ai precetti io te lo dico io Jonathan di Uzziel ale ecco un altro ma certo così è e ora ti diciamo per il bene che ti vogliamo per l'amore che avevamo a tua madre per quello che abbiamo a Lazzaro chiamate il maestro scuoti il capo vuoi dire che è tardi ormai come? non hai fede in lui tu Marta discepola fedele è grave ciò cominci tu pure a dubitare dice Archelao tu bestemmio scriva io credo nel maestro come al Dio vero e allora perché non vuoi provare? egli ha risuscitato i morti almeno così si dice forse non sai dov'è se vuoi te lo cerchiamo noi ti aiutiamo noi insinua felice ma no certo in casa di Lazzaro si sa dove è il rabbi dillo con schiettezza o donna e noi partiremo a cercartelo e te lo condurremo staremo presenti al miracolo per gioire con te con voi tutti dice tentatore Sadoc Marte titubante quasi tentate a cedere gli altri incazzano mentre lei dice dove sia non so non so proprio è partito giorni orsono e ci ha salutate come chi va via per lungo tempo mi sarebbe conforto sapere dov'è almeno saperlo ma non so in verità povera donna ma noi ti aiuteremo te lo condurremo dice Cornelio no non occorre il maestro voi parlate di lui non è vero il maestro ha detto che dobbiamo sperare oltre lo sperabile e in Dio solo e noi lo faremo tuona Maria che torna con il chia che la lascia subito chinandosi a parlare con tre farisei ma egli muore a quel che sento dice uno di essi che adoras e con ciò muoia io non ostacolerò il decreto di Dio e non disubbidirò al rambi e che vuoi sperare oltre la morte o dissennata deride l'erodiano che la vita la voce è un grido di fede assoluta la vita sii sincera tu sai che davanti a un vero morire sentite le serpi nullo è il suo potere e nel tuo stolto amore per lui non vuoi che ciò appaia capite? quindi capite perché anche Gesù ha fatto il miracolo dopo tre giorni quattro giorni che era morto Lazzaro perché avevano messo in giro la voce che il figlio della vedova di Nain e la figlia di Gairo non erano morti vere perché erano morti da poco capite perché Gesù ha voluto fare anche questo miracolo purtroppo per fare questo ha dovuto chiedere alle persone più amate una sofferenza così grande a Lazzaro di trascinarsi sta malattia pensate non lo guarisce tutti la corona avrebbe guarito immediatamente Lazzaro ma chi più meritevole di lui era di guarigione che era un santo era il miglior amico di Gesù capite cioè noi dobbiamo capire i misteriosi disegni di Dio ecco perché Dio non si chiede mai perché guardate qui che cosa dice Maria di Magdala muore e muoia io non ostacolerò il decreto di Dio non me lo metto a cercare dappertutto mi ha detto di continuare che lui non tornerà per un po' di tempo ma ha detto di credere oltre il credibile di sperare oltre lo sperabile e io lo faccio basta ci sono figlioli miei cari nella vita io ne ho tante e assicuro tante cose che noi non comprendiamo tanti meandri oscuri attraverso cui dico molte volte qualche volta non lo so il Signore ci fa passare che io personalmente ho imparato che perché a Dio non si chiede mai quindi non glielo chiedo e moltiplico gli atti di fede tu sai quello che stai facendo tu sai quello che hai fatto tu sai perché tuttavia pur dentro questa cornice e dobbiamo stare sempre dentro questa cornice ci sono delle circostanze delle situazioni delle notti oscure altro che che se uno potesse ma non si può si chiederebbe certo Signore mio eccola che serpeggia sempre sulla nostra perché 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 che non si dice e non si chiede perché Dio lo sa perché questi hanno capito il perché dopo la risurrezione di Lazaro di quattro giorni e attenzione Gesù sapeva bene che questa gente qui Dio lo potevi risorgere pure uno dei venti giorni non si sarebbe smossa di un millimetro allora uno potrebbe pensare di nuovo e perché Dio l'ha fatto? Questo è un perché che si può chiedere perché è un perché che non riguarda quello che San Tommaso chiamerebbe il contingente non necessario ma che riguarda invece una situazione oggettiva perché il nostro Signore Gesù Cristo a tutti dà la possibilità di pensare di convertirsi e di ravvedersi altre volte io ho detto guardate che non ci sarà soltanto il giudizio particolare ma ci sarà il giudizio universale ma sapete che succede nel giudizio universale? Sì voi pensate che qualcuno potrà dire al nostro Signore tu sei la causa della mia dannazione perché non mi hai fatto questo perché non mi hai dato quest'altro eccetera eccetera in verità la risposta è no però questa è la stessa cosa che vedremo in questo nel ciclo parallelo a questo che è quello del mistero di Giuda chi si danna deve attribuire la colpa della dannazione solo a se stesso e questa cosa emergerà in maniera oggettiva anzi incontrovertibile non solo al suo giudizio particolare perché le anime dei dannati sono disperate perché sanno benissimo che è giustissimo che soffrono quello che soffrono ma apparirà tale davanti a tutti quindi caro fariseo tu stai dicendo quelli erano non può fare niente davanti a un vero morire si questo qui quando è morto 100% cioè io mi azzardo ma insomma penso che conveniamo tutti quanti poi certo che dico quello che vuole non deve rendere conto a me ma mi sembra un dato oggettivo evidente non ho capito che avevi detto tu dinanzi a un vero morire non può niente giusto allora io quel giorno non c'ero perché volevo farlo morire e sarei tornato dopo quattro giorni proprio per dare un aiuto a te è vero morire adesso che so quattro giorni che è morto c'eravate voi che puzza che c'è un fetore che non finisce mai guarda che quando diventeranno più civilizzati stabiliranno che 24 ore cioè se una persona sta per 24 ore senza muoversi senza respirare è morto sicuro al 100% e nella mia chiesa potranno fargli pure i funerali dopo 24 ore però non prima quattro giorni altro che dopo 24 ore 24 per 4 4 per 4 16 4 per 2 8 più una 9 sono 96 bastano è morto o non è morto ecco tuttavia a questa insinuazione venenosa di questo turpe fariseo Maria scatta uscite tutti toccherebbe a Marta di farlo ma essa vi teme io temo soltanto di offendere Dio che mi ha perdonata e lo faccio perciò in luogo di Marta uscite tutti non vi è posto in questa casa per quelli che odiano Gesù Cristo fuori alle vostre tenebrose fuori tutti o vi farò cacciare dai servi come una mandria di pezzenti immondi io mi asterrei da commentare questa cosa perché non vorrei dare cattivo esempio però una frase mettiamocela bene in testa io temo soltanto di offendere Dio io temo soltanto di offendere Dio magari questo fosse il nostro parlo per me anzitutto chiediamolo con tutto il cuore magari questo fosse il nostro proprio chiodo fisso temo solo di offendere Dio e quindi non ho timore degli uomini il Signore è con me non ho timore che cosa potrà farmi l'uomo Salmo 117 il Signore è con me non ho timore sfiderò i miei nemici leggetelo Salmo 117 Salmo delle Lodi Domenicani il Signore è con me non ho timore che cosa potrà farmi l'uomo il Signore è mio aiuto sfiderò i miei nemici eccola è imponente nella sua ira i giudei se la svignano vigli all'estremo davanti alla donna vero è che quella donna pare un arcangelo irato questo è il classico caso di un'ira santa bisogna sempre andarci un pochino cauti con questo discorso perché è una cosa analoga a quella che ha esercitato Gesù quando ha cacciato i mercanti dal tempio però io suggerisco sempre cautela prima di abbandonarci all'ira pensando che sia un'ira santa con calma mi raccomando la sala si sgombra e gli sguardi di Maria man mano che uno varca la soglia passandole davanti creano una immateriale forca caudina sotto lo guarda di abbassarsi la superbia dei vinti giudei la sala resta vuota finalmente attenzione notate un'altra cosa i giudei se la svignano vili all'estremo vili la viltà per quanto mi riguarda la viltà vizio spreggevolissimo il vile è proprio un essere spreggevole marta si accascia sul tappeto in uno scoppio di pianto perché piangi sorella dice non ne vedo la ragione oh tu le offesi ed essi ti hanno ci hanno offese e ora si vendicheranno e sentite la risposta di Maria ma taci stolta femmina su chi vuole che si vendichino su Lazzaro prima devono deliberare avanti che decidano oh su un gulal non ci si vendica su noi e abbiamo bisogno del loro pane per vivere gli averi non ci ritoccheranno si proietta su di essi l'ombra di Roma e su che allora e se anche fosse che potessero non siamo noi due giovani forti non potremmo lavorare non è forse povero Gesù non è forse stato operaio Gesù nostro non saremmo più simili a lui essendo povere lavoratrici ma gloria di divenirlo speralo chiedilo a Dio ma ciò che ti hanno detto ciò che mi hanno detto è la verità me la dico io pure sono stata una immonda ma ora sono la gnella del pastore e il passato è morto su vieni da Lazzaro ecco questa sera abbiamo conosciuto uno spaccato di questa di questa splendida donna meravigliosa meravigliosa per quanto mi riguarda e lo dico senza nessun problema da da sacerdote proprio con sguardo di ammirazione trovare una donna che sa anche essere così forte è una cosa bella e qui c'è la differenza certo Marta attenzione Marta poverina è una santa donna quindi Marta è Santa Marta ecco però Maria su alcune cose come vediamo appare superarla e il finale senza commento sono stata una immonda ma non dobbiamo avere paura come dire anche di fare i conti con il nostro passato siamo stati quello che siamo stati però dobbiamo sempre avere fiducia che il presente e il futuro ce lo giochiamo noi la nostra santa fede divina e cattolica questo è di bellissimo tu puoi avere fatto quello che vuoi chiedi umilmente perdono a Dio pentili di quello che hai fatto sinceramente cambia vita e sappi che la vita può essere riscattata in qualunque momento e che Gesù stesso sarà difensore e custode di un passato che non può essere sbattuto in faccia tempo indeterminato alle persone rimane e che è stato peccatore allontanato dire bene che lo ricordi semplicemente per avere una grande gratitudine verso il Signore per comprendere la grandezza della sua misericordia ed esaltarla ma per il resto e quando capita qualche arrogante o superbo o falso o ipocrita ecco e chi più ne metta riguardo questi personaggi qui Vile tra l'altro ecco se uno gli ammolla qualche asfaltata come ha fatto come ha fatto Maria di Magdala ecco a quanto pare non fa peccato ecco bene che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga laudentur Iesus